Italia in poche ropa è in 14, siamo al momento della prima pausa al day 3 ed è scoppiata la bolla. Allora un commento a caldo da Carlo Savinelli di questo frangente. Un commento a caldo è che sono un po' rammaricato perché comunque sono riuscito a prendere tipo 400.000 giorni dopo un contesto sfruttando la bolla, però la prima mano dopo la bolla, quindi dove non vedevano l'ora di metterla al mezzo, ho avuto donna a donna e un'oppa ha deciso di tribetto con l'armi 10-10 prendendo il 10, 1.2 milioni, bisogna darne e prenderne questi colpi, speriamo. Certo, senti, invece un commento proprio sulla fase, cioè la tensione che si respira in sala. Ma guarda, ti dico la verità, per me è stata una bella fase perché comunque tutti aspettavano lo scopio della bolla, il tavolo era facile, non c'era nessun reg e fondamentalmente era un continuo foldare oppure cercare di giocare chiusi per poi arrivare a questi fantomatici premi che poi alla fine erano soltanto 1000 euro. Adesso come procede? Adesso credo che il gioco partirà un po' più aggressivo sinceramente perché tutti quelli là che avranno tipo 15-20 bui non saranno più lì ad aspettare, ma sfrutteranno l'occasione e cercheranno di metterli in mezzo da meglio. Va bene, per il momento è tutto, dal blog di Titanbet ci sentiamo ai prossimi aggiornamenti. Pase di bolla finita, tutti i giocatori a premio, Carlo Savinelli sorridente e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!